Se il mio amore per te vale 8 e il tuo amore per me vale 7, noi facciamo 15 amandoci, facciamo 15 amandoci. Ma il tuo amore per me vale 34 e il mio amore per te è 18 e noi facciamo 16, lasciandoci, facciamo 16, lasciandoci. 16 è un multiplo di 2, risulta quando si moltiplica l'8 per 2, 8 per 1 ottengo 8, 8 per 6 la mia 48, 8 per 3 è 24 ma 8 per 8 è 64. E' la libertà, potere dare tutti i numeri a volontà. Cara tu come me, braccia nei due, tu come me, gambe nei due, volami vicino che vorrai sommarti e raggiungere un totale di 8 arti. Però tu sei la numero 20, 5 per 4, 0 più 20, 6.7 per 3, tu sei 70.776. Però tu sei la numero 20, 5 per 4, 0 più 20, 6.7 per 3, tu sei 70.776. Io non so che fare di te, potrei sommarti, potrei toccarti, moltiplicarti per tre. Oh no, è troppo facile amarti, molto meglio misurarti. Oh no, è troppo facile amarti, molto meglio misurarti. Sei dai tuoi fianchi, io ho tancocco, sei dal tuo petto, io ho tancocco. Sei dalla vita, ho 63, tu sei un triangolo, io ho tancocco. Però tu sei la numero 20, 5 per 4, 0 più 20, 6.7 per 3, tu sei 70.776. Però tu sei la numero 20, 5 per 4, 0 più 20, 6.7 per 3, tu sei 80.776. Però tu sei la numero 20, 5 per 4, 0 più 20, 6.7 per 3, tu sei 90.776. Però tu sei la numero 20, 5 per 4, 0 più 20, 6.7 per 3, tu sei.